oramai siamo in piena season 1 del capitolo 3 ragazzi devo essere sincero non mi aspettavo un downtime così corto per un cambio season quindi grazie fortnite per averci solamente lasciato non più di 12 ore senza giocare molto meglio rispetto al buco nero di due anni fa pensate ragazzi siamo già al capitolo 3 questa è la diciannovesima season di fortnite infatti la patch che abbiamo scaricato tutti ieri era la patch 19.00 ovviamente la conosciamo meglio come season 1 del capitolo 3 un evento tra l'altro che ci ha portato a questo capitolo che a me personalmente è piaciuto tantissimo bella anche l'idea di inserire the rock come uno dei sette in modo da non snaturare troppo la storyline e mantenerla soprattutto riprenderla perché ci eravamo diciamo un pochettino persi con la storyline principale di fortnite quella basata sui sette iniziata addirittura nella season 3 del capitolo 1 tantissimi anni fa ragazzi era il 2018 inoltre mappa davvero carina per adesso vorrei subito spostarmi per parlarne un attimino meglio insieme eccola qui ragazzi proprio la mappa come la vediamo adesso c'è una quantità di neve ovviamente notevole meno invece la parte verde ancora meno la parte deserta però ragazzi non vi preoccupate perché nei file di gioco sono già presenti delle stringhe che ci fanno ben sperare che la neve lentamente si ritirerà indicativamente con la stessa velocità con la quale nella season precedente le zone corrotte delle dei punti di schianto si sono espanse questo però è anche una cosa molto interessante perché ci sono tantissime città location in generale sepolte sotto la neve tra cui la tanto amata tilted tower la stiamo aspettando tutti ad esempio alcune città che sono tornate e che ho avuto modo di vedere nelle mie partite di ieri sono state ad esempio boschetto bisunto sembrerebbe che tornerà anche scalini scatenati insomma un bel comeback che fa sicuramente piacere agli og e soprattutto per far conoscere delle location storiche a tutti quelli che non hanno avuto modo di vederle che magari hanno iniziato un po più tardi a giocare a fortnite ma andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi perché questo invece è la ricompensa per la prima vittoria reale quindi la l'ombrellino il seven signet chiamato così in inglese personalmente non mi piace bello il discorso che vada un pochettino a riprendere la skin quella appunto di the rock però potevano anche sforzarsi a fare qualcosina di più caruccio anche se alzo le mani ragazzi han tirato fuori una season 1 davvero bella anche il comparto armi devo dire che mi piace tantissimo ragazzi abbiamo per la prima volta su fortnite una assalto che quando si mira ti mette in prima persona questa è una svolta incredibile personalmente apprezzo tantissimo quella nuova arma dovrei chiamarsi l'MPK una cosa del genere adesso la andremo poi a studiare meglio nei prossimi giorni quella con il red dot side quindi il punto rosso l'ho provata nella versione mitica è illegale infatti molto probabilmente troveremo anche alcuni buff dei pump che sono un po ridicoli è un qualche nerf probabilmente su determinate armi a raffica perché ce ne sono alcune che sono leggermente rotte ma andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi forse non avete avuto tempo di accorgervi ma vicino alla parte destra se non ricordo male della mappa sott'acqua è riapparsa una mano questa non è una mano abbastanza sconosciuta è il braccio del mecha team leader qui lo vediamo in un'altra inquadratura per chi non si ricordasse di cosa sto parlando mi riferisco allora al capitolo 1 due anni fa season 9 se non ricordo male dove l'isola si mise a creare questo robot gigante per combattere il dogus quindi quel mostro che poi uscì dal mare che allora fu imprigionato sotto picco polare e durante lo scontro epico che vide per fortuna la vittoria del mecha lui stesso perse un braccio questo braccio è tornato cosa sta a significare un ritorno del mecha non è da escludere perché in realtà noi ci ricordiamo con l'evento che il mecha è partito verso l'universo e non si è più visto potrebbe magari ritornare una cosa davvero molto carina ma andiamo avanti a parlare di un altro fatto super interessante e qui voglio aiutarmi con un video che fra poco vi faccio vedere c'è la possibilità di utilizzare un simil double pump in questa season figurati che qualcuno non pensasse alla possibilità di utilizzare un double pump mi spiego meglio guardate questo video ragazzi che vi spiega benissimo quello che succede nella parte di sinistra avremmo il colpo di pump switchato con un altro pump nella parte di destra avremmo i colpi a ripetizione dello stesso pump guardate che roba 2 secondi e 15 guardate che differenza 3 secondi e 10 potete provarlo ragazzi per i nostalgici del double pump sicuramente avere la possibilità di switchare fidatevi che in season 1 nelle prime season c'era gente che col double pump ti faceva rizzare i capelli provatelo ragazzi prima che aumentino il tempo di switch tra un pump e l'altro e l'altro o buffino uno dei due pump quindi davvero molto molto curioso tra l'altro arriva anche una nuova feature in questa season che adesso vi faccio sempre vedere aiutandomi con un altro video forse non lo sapete ma se state giocando in compagnia sia in coppia sia in trio sia in squad da adesso potrete droppare i maz mentre siete noccati guardate un po che quello che succede qui c'è un avversario noccato come vedete a terra lui si rende conto che può droppare i maz e quindi addirittura pingarli al proprio compagno di squadra che ovviamente scende immediatamente e riesce ad essere aiutato questa cosa dovrebbe valere anche per il loot ed è una cosa che potrebbe cambiare radicalmente tutto il gameplay perché avere la possibilità di utilizzare anche l'inventario del nostro compagno di squadra beh porca miseria parliamone ti dà un vantaggio davvero super interessante quindi un'altra novità che magari non vi siete resi conto sia stata inserita e che quindi potrete sicuramente sfruttare non è tutto ragazzi perché ci sono anche grandi modifiche per quanto riguarda il res del proprio compagno di squadra se non lo sapete adesso più compagni di squadra aiutano il res di un proprio teammate e meno tempo serve guardate che roba ragazzi qui c'è uno noccato viene resato poi arriva anche l'altro guardate la velocità vedete che cambia anche e addirittura incredibile con il terzo il tempo si riduce a pochissimi secondi indicativamente si dimezza ogni volta che interviene un compagno di squadra guardate che roba ragazzi è incredibile vorrebbe dire davvero giocare di squadra perché se riusciste a rimanere vicino al vostro compagno di squadra e foste magari in due o in tre pochi secondi e lui tornerebbe in battaglia anche questa cosa non è assolutamente da sottovalutare perché è super importante inoltre ci sono anche delle novità per quello che riguarda una delle skin più desiderate diciamo su fortnite quando uscì nel qualche season fa andor relativamente a ruba sto parlando del marshmallow marshmallow che già vediamo nel trailer di questo capitolo 3 season 1 di fortnite in una variante dark quindi questa è l'immagine dove ci mostravano uno degli oggetti più interessanti che sarebbe la tenda lì di fianco c'è un marshmallow con dei vestiti scuri inoltre è stato aggiornato anche il piccone del marshmallow hanno messo questo effetto arcobaleno quando si utilizza lo swing del piccone all'aria e so anche che sta per arrivare una variante dorata dello stesso piccone questo vorrebbe dire magari un ritorno di marshmallow del suo set non lo so però stay tuned che appena saprò qualcosa anche io lo saprete anche voi e andando avanti con il prossimo argomento per tutti quelli che stanno cercando uno dei nuovi item o meglio l'unico nuovo potere che si può trovare in game i guanti di spider man che ti permettono di utilizzare la ragnatela per il momento è disponibile solo nel taco bell quindi il ristorante di tacos presente a boschetto bisunto uno dei borgobislacco borgobislacco ora non mi ricordo bene il nome porca miseria l'ho rivisto ieri per la prima volta doveva esserci mi sembra un problema quindi non era possibile acquistarlo in pubblica ma solamente in arena ve lo vende lui e quando lo otterrete potrete utilizzarlo in questa maniera quindi è veramente meraviglioso guardate è praticamente impossibile colpire un giocatore che utilizza un item del genere staremo ovviamente a vedere probabilmente servirà ancora qualche sistemazione da parte del team di sviluppo di fortnite per averlo e ottenerlo per tutti chiudo il video news di oggi ragazzi con quello di cui vi ho parlato proprio allo start quindi questi sono delle string che ci fanno capire che lentamente la neve si scioglierà e rivelerà un sacco di novità che per adesso sono ancora nascoste insomma ragazzi io spero che questo video news di fortnite vi sia piaciuto vi ringrazio tanto per averlo guardato mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale ragazzi aiutatemi a crescere noi ci vediamo sia sulla piattaforma viola in live che al prossimo video news di fortnite ciao non mi parte l'altro forse questo neanche questo perché non ho l'altro qui